Ciao a tutti, io sono Lilla e questo è un nuovo video sul grande Creeper con tutte le mie opinioni e il riassunto della puntata di Giulia! Ci sono un sacco di novità, un sacco di cose che vi devo raccontare, questa puntata però sarà brevissima e ci saranno un sacco di cose super succulente. Partiamo dall'inizio! Prima grande novità, c'è un cambio fra gli opinionisti, entro a fare parte della squadra Clarissa, troverete il suo indirizzo al canale nel mio infobox. Troverete ogni martedì un video per votare, ormai mancano due puntate, quindi mi raccomando il martedì è il giorno in cui potete votare sotto i suoi video. Il mercoledì rimarrà invece la mia giornata. Oltre al canale, ovviamente rimane anche l'Instagram per votare. Pare che Marcus sia stato chiamato ad Hollywood, lo potrete quindi o vedere lì o sempre nel suo canale per i suoi video. Per tutti coloro che ancora non hanno visto la puntata di Giulia e che vi lascio nell'info box, vi voglio riassumere la situazione delle nomination. Siete riusciti a far cacciare Francesca, avete votato in tantissimi per lei perché non vi era piaciuta la sua modalità di comportamento all'interno della casa. Aveva fatto dei magheggi, aveva spezzato tutti i gruppi e si era comportata veramente malissimo. Il pubblico sovrano l'ha cacciata via, quindi sì, siete riusciti a cacciarla. Che cosa poi è successo all'interno della casa? Il grande Creeper con una mossa da criminale ha creato una catena di salvataggio. Per chi non sapesse cos'è una catena di salvataggio, è un po' come quando si fanno le squadre a ruba bandiera. Praticamente si nomina uno e quello inizia a decidere chi è l'amico che vorrebbe in squadra. L'amico decide a sua volta qual è l'amico che vuole in squadra, finché non ne rimane solo uno. Quella povera Pieracotta rimane fuori dalla squadra. In questo caso il grande Creeper, che come dice sempre Giulia, è malefico, invece che fare sì che quello rimanesse fuori dalla squadra, quindi venisse eliminato dal gioco, lo fa diventare il primo finalista. Ed è successo così che sia Marco che Mercoledì, attraverso il gioco della catena di salvataggio, diventassero i primi due finalisti del grande Creeper. Marco e Mercoledì sono i finalisti. La cosa crudele è che i ragazzi della casa non lo sanno, pensano col cuore spezzato di averli cacciati fuori. Invece il grande Creeper li ha messi in una casa nascosta, che chiama la casa galleggiante, perché è tutta carina, messa fuori, andatela a vedere se non avete ancora visto il video, in mezzo all'acqua, e sono lì. Che cosa dovete fare voi? Attraverso il televoto di questa settimana, qua sotto, nei commenti o sul mio Instagram, dovete votare per far rimanere, per far sfidare contro Marco e Mercoledì, che sono già in finale, uno di questi. Quindi, tra Filadelfio, Cleo e Ludovico, chi volete che diventi il terzo ed ultimo finalista? Chi volete che vada a sfidare Marco e Mercoledì? Ripeto, chi volete salvare? Questa volta dovete salvare e non cacciare. Tra Filadelfio, Cleo e Ludovico? Eh, lo so, è una bella sfida. Sono veramente tre bravi ragazzi. Sono simpaticissimi, si sono dimostrati sempre molto leali. Adesso è una patata bollente, è una bella gatta da appellare, ragazzi. Ditemi voi, ditemi voi, e ditemi voi anche una cosa. A chi è semiglio? A chi è ispirato il mio fantastico outfit ad una delle mie cantanti preferite? Nei commenti voglio leggere anche questo. Voglio sapere se mi conoscete almeno un po'. Sì, lo so, non c'entra niente col grande creeper. Comunque, votate per il vostro preferito questa volta e buona fortuna per chi amate di più. Un bacione e alla prossima. Ricordate che mancano solo due puntate, per cui partecipate. Ciao! Ciao!